Sfida tutta Lucana per la 27esima giornata del campionato di Serie C, Gironi e C si affrontano infatti allo stadio Viviani, Potenza e Picerno. Partita numero 11 tra i professionisti per le due società, sostanziale parità nei numeri con 4 vittorie a testa e 2 pareggi nella gara d'andata della stagione in corso, pareggio ricco di reti ed emozioni nel 2-2 del Curcio. Gara nervosa con 5 munizioni nei primi 18 minuti, al nono di Grazia per il Potenza si mette in proprio e palla al piede e parte da centrocampo seminando il panico nella retroguardia Melandrina, giunto al limite dell'area, numero 11 dei patroni di casa, calcio potente col Mancino ma la sfera finisce larga a lato. Minuto 13 si ripete di Grazia che riceve la palla da Caturano, questa volta ci riprova ma con il destro, la sua conclusione è parata. Ventitresimo Ciccarelli con una grande iniziativa, prova a dare una scossa ai suoi, l'incursione tra gli avversari e delle migliori non si può dire lo stesso della debole conclusione. Ventinovesimo è un raccio in uscita di Ferrani che consegna la palla agli avversari e che porta alla conclusione di Verreggia. Sul finire della prima frazione di gara, doppia opportunità per Tommaso Ciccarelli, il migliore dei suoi, sottolinea un picerno padrone del campo negli ultimi 20 minuti. La ripresa inizia con un paio di conclusioni a testa ma la gara si sblocca al 56esimo con la rete del solito Salvatore Caturano che di testa colpisce ancora su cross che arriva dalla sinistra ad Armini. Azione nata da una rimessa laterale, subito il traversone e la conclusione di testa ravvicinata del bomber rosso-blu a quota 13 stagione. 59esimo raddoppia nei padroni di casa con Di Grazia che colpisce un picerno sbilanciato sul lancio lungo dalla retroguardia e il numero 11 che vince la sfida di corpo con Gallo, ultimo uomo dei suoi, e da dentro l'area con il destro sigla il raddoppio ravvicinato. Il picerno accorcia le distanze al minuto 62, Ceccarelli ci prova e la sfera è deviata in angolo, mentre i padroni di casa però si trattengono a protestare con il direttore di gara contestando la decisione, gli ospiti battono il corner in velocità e Sant'Arcangelo accorcia di testa le distanze. Incredibile al 94esimo, a partita praticamente scaduta il picerno pareggia con coda su cross di guerra, prova a liberare di testa Girasole ma la palla arriva sui piedi del talento classe 2002 che fissa il risultato sul pari finale.